Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con un nuovissimo video riguardante una nuova trattativa di calcio mercato che riguarda il nostro amato Lecce. Prima di parlarvene però, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Allora, in attesa di sapere chi sarà il nuovo centrocampista del Lecce, arriva Rémy Houdin, attaccante francese classe 1996 e arriva in prestito dal Bordeaux, squadra importante della Francia che però milita nella Ligue 2 Serie B francese. Sono molto contento di questo acquisto, anche se avrei preferito comprare una punta di peso con esperienza e gol in Serie A, proprio per completare quel reparto che pecca un pochino, visto che c'è Césée e Colombo, però serve un attaccante di esperienza lì davanti, secondo me. Comunque, Houdin può fare ovviamente l'ala destra, può fare l'ala sinistra e può fare il trequartista. Ha tanta esperienza perché nella sua carriera, fino ad ora, ha giocato ben 210 partite, segnando 47 gol e fornendo 27 assist, quindi comunque numeri molto importanti, considerando anche il fatto che ha giocato ben 134 partite nelle Ligue 1 Serie A francese, segnando anche 22 gol e fornendo 16 assist. Quindi è un giocatore molto tecnico, ha una discreta velocità, un buon tiro da fuori, quindi sicuramente un giocatore che può mettere zizzania nelle difese avversarie. Ora vediamo un po' quali saranno gli ultimi colpi di mercato. Vi avevo accinato prima il centrocampista. Il Lecce sta puntando uno tra Diavara e Akpa Akpro. Sembra in Pol il centrocampista della Lazio, quindi Akpa Akpro, anche se io preferirei più Diavara. Vediamo un po' appunto quale sarà la scelta della società e vediamo se magari Corvino si ingegna così un colpo last minute dell'ultimo giorno di mercato, sperando possa essere una punta. Ci sentiamo in un prossimo video, forse a Lecce sempre e ciao!